Torta al latte caldo, una torta dal sapore molto semplice ma soprattutto morbidissima. Andiamo a riscaldare il latte insieme al burro. Assicuratevi che il burro si sciolga completamente. Poi dobbiamo montare benissimo le uova insieme allo zucchero. Le uova devono essere a temperatura ambiente. Se ve ne siete ricordati all'ultimo momento di tirarle fuori dal frigo, potete utilizzare un pentolino con dell'acqua calda e poggiare il contenitore sopra. Unisco lo zucchero e vado a montare. Anche se è una cosa che può risultare noiosa, bisogna montare bene le uova, almeno per 5 minuti. Lasciamo le fruste e aggiungeremo tutti gli altri ingredienti lavorando con una spatola. Mescoliamo il lievito alla farina. Lo aggiungiamo setacciato poco per volta. E lo incorporiamo lavorando delicatamente con una spatola. Aggiungiamo a filo il latte caldo, continuando sempre a mescolare. Aromatizziamo con l'estratto di vaniglia e abbiamo completato. Adesso trasferiamo l'impasto in uno stampo rivestito di carta forno. E andiamo subito ad infornare. Prima di toglierlo dallo stampo lo facciamo raffreddare. E cospargiamo di zucchero a velo prima di servire. Seguire ilwenso in un tempo. Io seguire amato. Grazie a tutti.